Ciao amici, un saluto da Luca, bentornati nel mio canale. Oggi vi volevo spiegare di come organizzo mentalmente un'uscita di pesca, ecco dal momento del giorno prima, proprio come mi preparo a casa e poi cosa faccio in barca, quale canne apro per primo. Ecco, ovviamente si pensa il giorno prima all'uscita di pesca del giorno dopo, quindi studiamo l'attrezzatura, la ripassiamo in consegna, controlliamo il mulinello, deve essere perfetto. Io do molto affidamento ai dettagli, ecco sono un pochino un fanatico, ho una legatura di un amo, ci sto anche mezz'ora a farla, se non mi torna la faccio, la rifaccio, la rifaccio, se poi alla fine vedo che non mi soddisfa, taglio tutto e rifaccio. Ecco, sto molto attento ai dettagli e poi il bello del nostro gioco della pesca, perché quel dettaglio lì, quel gesto lì ci farà sognare tutta la notte è una giornata meravigliosa di pesca, è una cattura top, no? Quindi, vediamo un attimino, abbiamo capito bene cosa fare, voglio andare a pescare a Bolentino, oppure voglio andare a pescare a Drifting, voglio andare a pescare a Incico, a Spinning, ecco la sera prima mi preparo mentalmente e poi una volta in barca, qual è la canna che apro per primo? È quella da Spinning, ecco una canna da Spinning deve essere sempre pronta, prima apro la canna da Spinning e poi accendo motori per scandarli, questo perché? Perché è quella che ci può risolvere la giornata, mentre andiamo a pescare a Bolentino, nel tragitto, oppure mentre andiamo a pescare a Drifting, qualsiasi tipo di pesca, durante il tragitto si può notare una mangianza, si può notare una sbollata, ecco esco dal porto, vedo una sbollata di un serra con la canna pronta, si può lanciare subito e quindi catturare. Pensate un attimino a una cosa, io tengo invece le canne nel portacanne, esco, vedo una bella sbollata dal porto, una sbollata, prendiamo la sacca, dov'è la sacca? l'ho messa giù, tirala fuori, io ci ho messo prima sopra davanti le cose, levale quelle, spostale, apri la sacca, prepara la canna, prendi il mulinello, lo metti nella placca, devi passare il filo, a quel momento è già passato tutto, quindi una mangianza, una sbollata, si può creare qualsiasi cosa, ma se non abbiamo la canna subito pronta, adatta da lanciare, ecco questo vanifica tutto, tutti i nostri sforzi. Quindi la prima canna che apro è una canna da Spinning a cui metterò un metal jig oppure un incico, a seconda dei casi, quindi anche queste due esche devono essere pronte a portata di mano. Poi una volta arrivati sul posto e faccio quella pesca che ho studiato il giorno prima, ecco sono arrivato, faccio volentino, voglio fare volentino e farò quella tecnica lì. In genere io faccio solo una tecnica in un giorno, quindi sparo tutte le mie cartucce, mi sono preparato per il drifting al tonno, faccio quello. Poi salvo casi eccezionali, ripiego su altri tipi di pesca, ma è difficile, se andiamo a tonno, ecco non tonno nel sottocosto e vado a sgomberi sugarelli, assolutamente no, preferisco rimanere a tonno fino alla fine. E così, sono a volentino, ho portato gli americani, coreani, gamberi, calamari, faccio volentino, che sia a tanute, che sia nel sottocosto a fragolini, però faccio quello fino alla fine. Però ricordatevi, una tecnica di pesca che si abbina a tutte quelle che abbiamo detto, è la canna da spinning che ti può far pescare subito, ti può far lanciare subito un metal jig, oppure si può usare nel fondo pescando magari con un incico, mettiamo un bel incico con un polpetto attaccato. Ecco, queste due tecniche mi hanno fatto risolvere tanti risultati in pesca, vedrete delle immagini qui di seguito, per esempio, ecco, un giorno ero andato a pescare le seppie con il mio amico Adriano, ecco, nel momento in cui si pescava le seppie nell'acqua bassa, notiamo una sbollata, subito, prontamente, fortunatamente avevo la canna da spinning pronta, apro l'archetto lancio, ecco, esce fuori un bel alletterato, un alletterato, anzi un tombarello, quindi, stranamente, nell'acqua bassa, ecco, un periodo invernale, un tombarello, rimaniamo stupefatti dall'accaduto, ma in quel momento nasce proprio una mangianza di questi tombarelloni e ne prendiamo diversi, ecco, questo perché avevamo le canne pronte, altrimenti non c'era nessun motivo, rimaneva solo nei nostri occhi quella grossa predata al gallo. Un'altra tecnica che mi ha fatto risolvere una giornata importante, ecco, è quella dell'incico, l'incico va manovrato nel fondo, il polpetto deve rimanere a stretto contatto con la sabbia, si può alzare proprio, manovrarlo molto lentamente, comunque, è a differenza del jig che va rubrato velocemente, ecco, questo, questa testa piombata deve radere sul fondo, alza una nuvoletta e dietro il gonnellino del polpettino si deve, si muove da sé, si alza da sé, è molto molto catturante. Un abbinamento, ora ecco, vedrete qui delle immagini, io fortunatamente un giorno ho presi un'ombrina bocca d'oro stupenda, ecco, anche quella era un'uscita così, pausa pranzo, non so che tecnica fare, apro queste due canne, mi metto in quel giorno lì a fare qualche seppia, però nel frattempo manovravo anche questo in ciclo e ho catturato questa stupenda ombrina. Altre volte ho preso delle mostellone, altre volte abbiamo preso gallinelle. Un'altra tecnica che si può abbinare a queste due è mettere un bracciolo con un terminale e usare questo in ciclo proprio come un vero e proprio piombo, con la differenza che il piombo fa solo da peso e l'incico può fare da peso e da esca, perché un caso di preda grossa può mangiare direttamente l'incico e può mangiarlo un polpo, può ragionare una murena, può far piacere a fragolini di taglia e poi trovano, se no, nel nostro bracciolo l'inganno dell'esca, quella naturale. Ecco, quindi io mi regolo così, vado a pescare attorno, apro la canna da spinning o da incico a seconda e le tengo sempre pronte. Mi è capitato tantissime volte, soprattutto al mio compagno di pesca Adriano, è capitato di agganciare delle leccioni spaventose, proprio avendo pronte queste canne, ecco, sfruttare proprio al massimo tutte le occasioni. Non esiste tenerle nel fodero, io non le porto nel fodero e le lascio nel fodero fino a che non sono in pesca, ma le apro prima di accendere i motori. Queste due canne devono essere sempre pronte. Avete visto qui tante immagini, sono state frutto, ecco, dell'improvvisazione, ecco, avere bellesca, pronta da lanciare. Questo è importantissimo, quindi consiglio a tutti voi di aprire sempre queste due canne. Bene amici, siamo anche oggi arrivati alla fine di questo video, un video molto veloce con qualche bellissima immagine e vi lascio qua sotto lo spazio per dei commenti. Fatemi sapere voi le vostre impressioni su questi due tipi di pesca, a me piacciono veramente tanto, ecco, riuscire a catturare un pesce o un'esca artificiale dà proprio anche il massimo della soddisfazione, che poi alle volte sono di gran lunga superiore a quelle naturali. Al prossimo video amici!